Le opere per il completo disinquinamento del fiume Sarno realizzate fino ad ora consentono la depurazione del 60% degli abitanti equivalenti. Entro la fine del 2015 si arriverà all'80%, già in esercizio completamente funzionante a norma e 5 impianti di depurazione. Per l'inizio del 2015 potranno allacciarsi le reti fognare di altri 140.000 abitanti equivalenti. In via di soluzione anche il problema della realizzazione del sistema fognario di Scafati, che attualmente ha 200.000 abitanti che scaricano direttamente nel fiume Sarno. È questa la sintesi di una lunga lettera che la Giunta Caldoro, attraverso gli assessori regionali Edoardo Cosenza e Giovanni Romano, ha inviato ai sindaci del bacino idrografico del Sarno per fare il punto su tutte le opere per il disinquinamento del fiume. La completa depurazione del Sarno, precisano gli assessori, rappresenta per noi un'azione fondamentale e per questo abbiamo ritenuto doveroso informare tutti i comuni. Nella missiva si parte dal sistema di depurazione elaborato dall'allora commissario straordinario Roberto Iucci. L'intero sistema dei depuratori del Sarno, composto da 5 impianti, scrivono Cosenza e Romano, è interamente operante in regola. In particolare è funzionante il depuratore di Foce Sarno, nel quale è stata attivata anche la sezione biologica. Sul comprensorio Alto Sarno è attivo dal 1999 il depuratore biologico di Mercato Sanseverino, che riceve tutti gli scarichi industriali del polo conciario che vengono pretrattati nell'impianto di Solofra. Nel comprensorio Medio Sarno sono funzionanti i tre impianti di depurazione di Angri, Nocera Inferiore e Scafati. Occorre vigilare costantemente sull'attività di tutti i depuratori, segnalateci eventuali disfunzioni. Il sistema di collettamento in gran parte è terminato e funzionante, continuano gli assessori. Restano da attivare il collettore Medio Sarno ed il collettore di Gragnano. Entro fine 2015 i lavori dovrebbero terminare. La totale messa in funzione è prevista per febbraio 2016. Per quanto riguarda i sistemi fognari, il problema più grande è quello relativo a Scafati, con i suoi 200 mila abitanti. La giunta Caldoro ha finanziato con 27 milioni di euro i lavori necessari con il programma europeo di accelerazione della spesa. Serviranno a realizzare le opere che non trovano copertura con il programma del commissario straordinario. I lavori dovrebbero partire entro gennaio e comprendono anche due vasche di espansione fondamentali per la messa in sicurezza del territorio.